Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video voglio mostrarvi la mappa della stagione 3 di Fortnite capitolo 2 per quanto riguarda la posizione delle monete XP verdi e viola della prima e della seconda settimana quindi a sinistra abbiamo la prima settimana, a destra la seconda settimana quindi con queste due mappe potete localizzare le monete XP dall'accogliere per ottenere appunto non solo l'esperienza dalle monete ma anche dalla scheda punti che vi richiede di raccogliere appunto le monete verdi e le monete viola